Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su GTA V Online Allora oggi vi mostro un super glitch, super velocità con la deluxe Allora partiamo subito, requisiti, avere la deluxe Che vi devo dire? Allora assieme a me c'è Pasqui 1999 Potete farlo anche in solo, comunque dovete andare in alto nel cielo Comunque ora vi velocizzo la parte Una volta raggiunto l'alta quota dovete premere X per mettere le ruote Fare un slip come ho fatto io, metà Girare e premere X prima di finire il giro con R2 Ve l'ho messo in rallentatore Leggete bene che ci riuscirete Come vedete ho la super velocità Qualche laggatina la tira perché gita non supporta tutta sta velocità Come vedete Comunque se non riuscite a farla Non dite che è pacciata perché funziona ancora E siete voi che non riuscite a farla Comunque non è la prima volta che la faccio Ho dovuto riprovare e riprovare finché ci sia riuscito Comunque ragazzi lasciate like, iscrivetevi, condividete E noi ci vediamo alla prossima Bella ragazzi Ciao